In arrivo! Fatica? No! Tanta! Guarda che c'è! Guarda... Con la frittura! Ah... Adirittura! Oliva... Non li vuoi niente! Siamo là! Ciao! Qui? Qui in bel dicembro... No, pian dicembro! Quello della fritta, questo sentiero l'abbiamo fatto tutto con gli sci di fondo, e anche a piedi viene meglio. Ciao! Ciao! Come vanno i serpenti? Sì! 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 Come vanno per la scuola! Adesso che c'è una strada da scuola! Sì! Da scuola! Sì! 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 Sì, non sentite che sono fatta? A un po' di più, non si vede in giro, perché? Sì, è stata col bastone col quattro della gamba, e ha detto no! Non lo faccio di Giuseppe! La famosa di Cesano Madero! Questa è la da fotografare, c'è anche la colla! Diretta come liberarsi della moglie! Eh, va che cagli fuoco! Se carica la macchina! Bella! 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 L'acqua è tonica! Inoltre! Sì, vota per l'acqua! Questa è una sera! Con la sua scena! L'acqua è tonica! Ma Tony, vuoi un gelato? No, un gelato. Vuoi gelato? Chi è la ragazza? Sì, ma il gelato non puoi sapere.